ciao caro spirito eterno quattro parole per capire meglio il grande gioco cosmico la mia interpretazione della realtà è che stiamo vivendo all'interno del grande gioco cosmico che se impariamo a giocare capiamo certe dinamiche certe dimensioni capiamo perché queste quattro parole vita perché noi siamo eterni mai nati mai morti in un corpo che inizia una fine il corpo inizia e finisce come tutte le cose fatte materialmente in questo mondo anche le rocce si sgretolano è solo questione di anni però la vita è inseparabile dal movimento cioè il movimento e la vita sono la stessa cosa quindi vita movimento viaggio viaggio cosa vuol dire movimento da una parte all'altra quindi adesso facciamo un piccolo viaggio chiamato nascita vita morte all'interno del grande viaggio che l'eternità nessuno ci può sottrarre l'eternità attenzione a quello che dico però per avere la consapevolezza dell'eternità bisogna vivere in un certo modo cioè alzare il livello di coscienza della consapevolezza allora annebbiando danneggiando condizionando impedendo violentando i livelli di coscienza cioè abbassando il livello di coscienza non è che noi smettiamo di essere eterni perdiamo la consapevolezza la percezione dell'eternità l'eternità è vita sempre amore sempre gioco quindi vita movimento viaggio gioco è un gioco forse è una mia interpretazione quando gesù diceva se non tornate bambini non entrate nel regno dei cieli poi bisogna vedere bene le traduzioni nella lingua di gesù poi gesù parlava bisogna vedere chi ricopiava chi scriveva però il concetto è che se uno non gioca nel senso più bello della parola giocare come fanno i bambini certi perché poi certi bambini non sanno neanche giocare però sappiamo l'idea che il bambino gioca anche con i sassi con i rami con le onde del mare guardando le nuvole gioca il bambino riusciamo a capire vita movimento viaggio gioco quindi la vita è un viaggio ti auguro con gioia con amore di continuare il viaggio ma ci sono alcune regole da capire in questo movimento quindi l'eternità è vita movimento viaggio gioco ma per cogliere questa eternità che siamo noi ognuno di noi tu sei eterno bisogna alzare il livello di coscienza alzarlo molto molto bene quindi non rallentare il flusso dell'energia vitale l'energia vitale è in movimento attraverso sette vortici dove che viene bloccata il più delle volte nel quarto chakra quello del cuore per quello che Gesù Cristo era venuto ad aprire il chakra del cuore il vortice la fascia del cuore sono tante immagini di Gesù aperto che si vede il cuore perché la sensibilità la capacità di amare amore amicizia buona relazione quindi noi siamo nel grande gioco cosmico e ci conviene imparare a giocare bene quindi essere molto semplici molto sensibili lasciare scorrere l'energia vitale di modo che c'è risveglio spirituale ma ci troviamo davanti a delle culture violente aggressive autoritarie patriarcali coercitive leggevo un resoconto della prima guerra mondiale che ha fatto mio nonno il padre il padre di mia madre non volevano combattere non volevano erano obbligati e ogni tanto al fronte fucilavano qualcuno davanti agli altri sessibilità di combattere e ci fu un episodio che avevano mandato 200.000 giovani a morire in pratica ne sono morti 600.000 passa un generale in rassegna vede che uno invece di stare sull'attento fuma il sigaro parla con questo questo non smette di fumare i carabinieri che sono la polizia militare che erano la scorta del generale Graziani lo prendono lo legano lo mettono al muro lo fucilano sul posto alla domanda che gli fecero poi perché l'ha fatto lui disse i soldati sono miei ci faccio quello che vogliono e quindi mandare gente è così quindi capito mio nonno ha vissuto una guerra chiamata mondiale dal 1915 al 1910 non voleva combattere era obbligato altrimenti era traditore della patria traditore di dio traditore della famiglia traditore veniva fucilato quindi noi dobbiamo capire che le regole del gioco sono l'amore e la consapevolezza la consapevolezza viene dalla conoscenza mi auguro di aver risvegliato con queste parole vita movimento viaggio gioco la tua vera natura che non ha avuto inizio non ha fine stai vivendo un piccolo viaggio all'interno del grande viaggio quindi buon viaggio e con gioia e con amore il viaggio continua grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti